Oh, traversa piena, traversa piena! Sul tiro di? Di Mata! Mata ha colpito... Bravo perro, bravo! Il legno... Malbone mi dicono che ha colpito il legno interno e ribalzato per terra sulla linea. Una bella occasione da rete. Sulla linea dei centrocambisti, bravo, bravo! Ah no, uno perché l'ha annullato quello che l'ho passato.